La coppia numero 28, ci sei? Sono Emanuela e Marco che interpretano Edward e Alphonse Elric da Full Metal Alchemist. Senza sacrificio l'uomo non può ottenere nulla. Per ottenere qualcosa è necessario dare in cambio qualcos'altro che abbia il medesimo valore. In Alchimia è chiamato il principio dello scambio equivalente. A quel tempo noi eravamo sicuri che fosse anche la verità della vita. Svegliati, Alphonse. Oh, oh, chi sarei? È ancora troppo presto per morire. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. È solito. Chi l'avrebbe detto che quel ragazzino non è un corso? Aveva ingannato anche me, Celine Bradley. L'apparenza esteriore è solo simbolica. Non sei d'accordo? Mio bittorio, Alchimia. Mio e Grazie a tutti Grazie a tutti